Ecco Giorgettina ma non la mia amichetta del cuore Questa è Giorgettina Ecco Giorgettina ma non la farmacista Avendo visto per televisione oggi a uomini e donne una ragazza con i capelli ricci che si chiama Giorgia ho il piacere di ricantare per l'ennesima volta il mio brano personale musica adesso e anche per l'associazione di idee di omonimia musica adesso una ragazza Giorgettina bionda e birittina con la frangetta fa la farmacista e sta in sicilia Giorgettina Quando Giorgettina va al supermercato c'è il suo che si presenta in minigonna dalla sua voglia Punta c'è la sua stesona a quel supermercato tutti quanti vedono ogni godine e zoccoli a tutti suggerò se Giorgettina va in banca per parlare di grossi affari con quel direttore sta voltata con una gonna e senza bigodini dopo che ha parlato brevemente col direttore il direttore manda via dalla banca Giorgettina dopo che ha parlato brevemente col direttore il direttore continua in piscina per mutare a Giorgettina musica 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 bene nella prima puntata della mia rubrica muto come un pesce quella di Giorgettina fatta alla fine del 2017 sono state fatte 200 visualizzazioni come avevo detto la scorsa settimana ciò sono molto contento che voi tutti mi stiate seguendo per via youtube bene alla prossima e un bacio